Ciao, io sono Alberto Camuncoli, autore del libro bestseller Investire con successo e ideatore del metodo di investimento Teta Tradingvest. Oggi ti parlo dei falsi miti che da sempre circondano le opzioni. È vero che sono complesse, pericolose e riservate solo ai grandi fondi di investimento? Nei prossimi minuti lo scoprirai. Vediamo quindi, prima di entrare nel vivo, nelle caratteristiche di questi strumenti finanziari, quali sono i 10 falsi miti sulle opzioni. Primo, in assoluto, si pensa che sono solo scommesse. Ho già detto prima, poche slide fa, che le opzioni finanziarie non vanno confuse con quelle binarie. Tra l'altro questi strumenti, le opzioni binarie appunto, sono state bandite in tutta Europa dall'apposito ente ESMA. Quelle opzioni binarie sì che sono pure scommesse, o meglio puntate come se fossimo all'ipodromo. Le opzioni finanziarie invece sono strumenti complessi, ma che possono fornire un grande aiuto sia all'investitore che al trader, purché chiaramente siano consapevoli del loro funzionamento. Due, sono troppo rischiose. Beh, come commentare? Possiamo dire che come spesso succede, il rischio non dipende tanto dallo strumento in sé, quanto ovviamente da come lo si usa. Un'auto è rischiosa? Dipende, dipende che uso ne fai. Un coltello è rischioso? Lo puoi utilizzare in cucina a prepararti un panino e lo puoi utilizzare per arrecare gravi danni a un'altra persona. Il modo migliore per ridurre il rischio al minimo è la conoscenza. Conoscere quindi tutte le caratteristiche dello strumento che si sta utilizzando, sapere esattamente cosa si sta facendo e quali possono essere le eventuali conseguenze del suo utilizzo. Quindi, ancora una volta, combattiamo il rischio con la piena conoscenza di quello che stiamo facendo sui mercati finanziari. Altro mito. Tre, sono troppo complicate. Beh, in realtà all'inizio è vero, non te lo nascondo, non posso nascondertelo. Le opzioni appaiono complicate perché si comportano secondo dinamiche non immediatamente intuibili. Se però si riesce a superare lo scoglio iniziale e si comprende come funzionano e come sfruttarle al meglio, come ti dicevo, possono offrire vantaggi unici. Ti esorto quindi assolutamente a non farti scoraggiare, così che una volta comprese potrai utilizzarle per ridurre i rischi e migliorare i tuoi rendimenti. Falso mito numero quattro. Se le compro e il sottostante si muove a mio favore, guadagno. In realtà può succedere esattamente il contrario. Quindi, proprio così, con le opzioni puoi indovinare la direzione del titolo e perdere soldi e, al contrario, sbagliare la direzione del titolo e invece guadagnare. Strano ma vero e nel corso di questi filmati scoprirai perché ciò avviene. Falso mito numero cinque. Permettono di raddoppiare il capitale in poco tempo. Beh, ti posso dire che fare il 100% anche in un solo giorno con le opzioni è possibile. Certo, è possibile, ma non è questo assolutamente l'uso che io consiglio. Perché a fronte di un'operazione è molto profittevole e magari te ne possono capitare diverse dove, invece che raddoppiare il capitale, cosa vai a che performance riesci a realizzare? Beh, lo perdi completamente. Quindi, attenzione, chiaramente, a quali sono gli obiettivi, i tuoi obiettivi di utilizzo di questi strumenti finanziari. Sei. Il 90% delle opzioni scade senza valore. Si sente dire spessissimo, si dice anche ai seminari, è scritto su diversi libri. In realtà, stando agli ultimi dati disponibili, il 55% dei contratti viene chiuso prima della scadenza e quindi il 35% scade senza valore. Quindi questa percentuale si riduce, non è il 90%, ma si riduce al 35%. Se ci pensi però al 35%, beh, rimane comunque una bella cifra. Perché quando un'opzione scade senza valore, significa che chi l'ha acquistata ha perso tutto il suo investimento. Quindi torniamo al punto di prima, al punto 5. Attenzione, puoi, è vero, raddoppiare il capitale in poco tempo, ma sempre in poco tempo lo puoi anche perdere completamente. Falso mito numero 7. Si può guadagnare anche con i mercati chiusi. Questa è veramente una bufala bella e buona che purtroppo continua a essere raccontata anche in seminari specializzati. In realtà il valore delle opzioni al venerdì sera tiene in considerazione i successivi due giorni di chiusura dei mercati. Quindi cos'è che viene detto? Fai delle operazioni magari al giovedì o al venerdì, così ha il vantaggio del weekend dei mercati chiusi. Come se i market makers, gli altri investitori, tutti gli altri partecipanti al mercato non sapessero che in realtà i mercati sono chiusi al sabato e la domenica. Quindi attenzione che questa è veramente una bufala. Una bufala. Come per qualsiasi altro strumento finanziario, anche con le opzioni il successo lo si costruisce a mercati aperti, senza bisogno quindi di sperare nel sabato e nella domenica. Falso mito numero 8. Possono bastare 5 minuti al giorno. In questa affermazione c'è una mezza verità. Nel senso che una volta imparato a utilizzarla nel modo migliore, le opzioni richiedono poco tempo sia per mettere a mercato le operazioni sia per seguirle. Perché questo? Perché non c'è bisogno del setup perfetto, del timing perfetto, di passare ore e ore a controllare grafici. Però attenzione, il tempo che si risparmia dopo bisogna investirlo prima, perché in realtà è richiesto poco tempo per poi selezionare le operazioni, metterle a mercato e seguirle. Ma è richiesto invece molto tempo prima, all'inizio, per imparare come fare. Quindi gli scogli, gli ostacoli, come spesso succede, sono all'inizio. Te lo ripeto, ribadisco questo concetto perché veramente desidero che dentro di te tu abbia la forza necessaria per, appunto, superare questi ostacoli iniziali così da, appunto, poter pienamente sfruttare questo strumento. Nove. Possono essere utilizzate solo da fondi specializzati. È vero, sono moltissimi fondi che utilizzano le opzioni e lo fanno sia per proteggere altre posizioni in essere che per ricavare rendite mensili dai mercati. Quindi essenzialmente l'utilizzo è in questo senso, da parte dei fondi specializzati. Questo però è uno dei casi dove invece possiamo dire piccolo e bello. Non grande e bello, ma piccolo e bello. Quindi è bello poterlo utilizzare come clienti retail. Perché questo? Perché comprare e vendere opzioni come un normale cliente, un privato, comporta una serie, rispetto ai fondi specializzati, una serie di vantaggi veramente notevoli. Per esempio, abbiamo liquidità, possiamo utilizzare mercati, molti più mercati. Possiamo, appunto, avere un migliore prezzo di esecuzione perché andiamo a negoziare chiaramente un numero di contratti decisamente inferiore. Quindi otteniamo un'esecuzione migliore e più veloce. Abbiamo una facilità di entrare in posizione e di uscire da una posizione che è assolutamente un fondo con magari centinaia e centinaia di milioni di dollari a disposizione non può avere. Quindi assolutamente con le opzioni non bisogna lamentarsi di essere clienti retail, di essere privati, ma assolutamente piccolo e bello. 10. Non si possono vendere se prima non si sono acquistate. Anche questo non è vero perché come è possibile shortare un titolo senza possederlo, quindi un'azione? Cosa si fa? La si chiede in prestito al broker e quindi poi la si vende se la si vuole shortare. Così è possibile vendere opzioni che non si posseggono. La cosa che bisogna fare è lasciare in deposito una somma a garanzia chiamata margine. Quindi è possibile vendere opzioni anche senza possederle purché si abbia chiaramente la somma necessaria richiesta dal mercato che deve essere congelata, deve essere messa come margine, messa come garanzia per garantire chiaramente tutte le obbligazioni derivanti da questo contratto. Questa possibilità ovviamente è quella di andare a vendere le opzioni anche se non si posseggono e amplia notevolmente gli spazi di manovra e le strategie che possiamo mettere a mercato appunto grazie a questo strumento finanziario. Grazie a tutti.